La notizia è arrivata in serata direttamente dal Ministero delle Finanze, un fondo da 5 miliardi di euro espandibili a 6 per sostenere le banche in difficoltà, in particolare Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Che le nostre banche siano sorvegliate speciali da parte del Ministro Padoan lo dimostra il vertice voluto ieri dove sono stati convocati tutti, dalla Cassa Depositi e Prestiti alle fondazioni, a Mediobanca fino ai vertici delle nostre banche in difficoltà. L'obiettivo è di evitare il fallimento soprattutto di Popolare di Vicenza, che ora si chiama Bailin. Un'ipotesi tutt'altro che distante, dopo che Unicredit ha messo le difficoltà a trovare investitori che credano ancora al progetto finanziario della banca di Corso Palladio. Ecco il perché del Fondo Atlante, che nella mitologia teneva sulle spalle il peso dell'universo. Scriviamo il Bailin che mi pare già un buon risultato. Purtroppo quello che è accaduto non si può dimenticare e soprattutto non può essere così in qualche modo risolto semplicemente con questi aumenti di capitale. Perché, sottolinea il professor Zen, che sta studiando tutta la vicenda come esperienza da utilizzare con gli allievi, è già tanto se si salveranno le banche. Purtroppo, per quanto riguarda invece gli aspetti meramente riguardanti l'azionista e quindi il prezzo dell'azione, io credo che quel che è perduto è perduto. Inevitabili quindi i 50 centesimi per azione come punto di ripartenza, puntando tutto sul futuro operativo delle banche per vedere crescere il valore dei titoli. Ci vorrà tempo, molto tempo, ma intanto con questo fondo non si è toccato il fondo. Vedremo quello che il mercato in qualche modo valuterà. Tuttavia, ripeto, quello che è importante in questo momento è salvare le banche, la loro operatività, la gestione delle banche, i risparmiatori, i dipendenti e questi aspetti qui.